allora vabbè vai tranquillo allora tu vuoi vedere che c'è la stampa si se se mi puoi mettere due vaschette quel tanto bastano se bastano due cicli di stampa no bene si si attiva attiva sembra sembra di no ma è una bella macchina imponente caspita no ma è bella rigida è bella fissa è bella stagna non è mia una merdina una bella struttura allora ci no 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 Grazie a tutti